Ed ora, ecco l'ospite che voi tutti aspettavate! Pac-Man! Guardate! Sono qui! Adoratemi! Non scappate! Tenete un abbraccio! È l'ultima volta che interferisci nei miei piani, Pac-Man! Grazie a tutti! Ah 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 yeah ah yeah 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Non è giusto! Hai rovinato tutto! Nessuno vuole bene ad un fantasma! Non è giusto! 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 Non è giusto!